Non è vero qualche luccica, anche i cosiddetti personaggi che appartengono al mondo del governo, o meglio della politica, sembrano davanti a tutti immacolati, perfetti, propri e retti, poi in realtà hanno degli schede di andare male oppure sono in realtà l'esatto opposto rispetto a quello che si vedono quando fanno dei discorsi o dei commissi pubblici. E' il caso di Donald Trump, pensate infatti che uno di suoi nipoti ha messo in piazza, diciamo così, parisato commenti di tipo imbarazzante ma anche piuttosto razzisti da parte dell'osietto che in qualche maniera ci fanno capire chi realmente sia Donald Trump. In particolare si legge sul web che lo stesso Donald Trump avrebbe detto frasi del tipo negri, punto esclamativo, ecco cosa hanno fatto i negri. Ma non soltanto questo, ci sarebbe infatti da parte del brutodino di questo personaggio così famoso di tutta America anche messaggi o meglio parole ancora più pesanti, ancora più forti, ancora più terribili e devastanti. Diciamo quindi che Donald Trump possiamo considerarlo come un santo quando lo vediamo nei commissi pubblici, sempre proprio, retto, buono, per bene, immacurato, proprio nella realtà dei fatti, in realtà è un personaggio, veramente non del tutto retto e proprio. Non aggiungo altro, ma questo è normale, pensate che i nostri politici italiani siano meravigliosi, storie e fantasi, secondo me no. Poi un libro è messaggio che vuole. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate e una buona giornata a voi tutti. Grazie.